Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi siamo su Clash Royale Signori sto registrando questo video di Clash Royale praticamente la mattina dopo aver registrato quello che avete visto precedentemente Infatti quello lì l'ho registrato ieri sera, stamattina stavo andando a fare le battaglie per prendere i bauli d'argento da togliere dalle palle come al solito Per portare il prossimo chest opening e mi è capitata una battaglia, mi è capitata una battaglia che assolutamente non posso non farvi vedere Vi faccio vedere subito il replay, è stata qualcosa di vicidiale E' capitato come nello scorso video una risata malefica che ha fatto girare totalmente la partita Ve lo metto per due così almeno facciamo prima E la battaglia sta partendo signori, io parto all'attacco con mini pecca e moschettiere Lui ci ferma subito il mini pecca però il moschettiere riesce a dare qualche colpo alla torre A questo punto si trova in una buonissima situazione, come vedete ha un gigante con goblin lanceri dietro Noi riusciamo a fermargli e lì però ci porta via metà torre Arriva il suo draghetto, noi gli mettiamo il nostro, mini pecca e lui signori ci mette l'arco X Ci mette l'arco X, mini pecca l'ho messo dopo, prima ho messo un moschettiere Riusciamo a portare ancora qualche colpo con il moschettiere alla torre E gli abbiamo portato una torre a 800 e una 1.258 Ma lui come vedete è molto molto in vantaggio Purtroppo qui ho messo gli sgarri per sbaglio perché non avevo visto che aveva messo il mini drago E abbiamo fregato così un bel po' di mana Proseguiamo, lui piazza un altro arco X signori Ma noi riusciamo a colpirgli abbastanza la sua torre Gliela portiamo a 300 di vita e 800 l'altra Signore attenzione a questa mossa che fa Primo razzo e ci porta via la torre Io sportivamente gli dico complimenti, bella giocata Hai fatto proprio un bel attacco Attenzione signori perché non è finita qui Ecco il secondo razzo e ci va a prendere così la seconda torre Io glielo ridico, complimenti Signori qui parte la sua risata Io faccio lo sportivo, gli do i pollici Ma qui parte il nervoso signori Partito il nervoso, gli tolgo tutte e due le torri Risata malefica anche noi signori Eccoli siamo lì con tutte le truppe Siamo con tutte le truppe lì Ma lui riesce a ribaltare la situazione Ok a questo punto gli lancio la fireball Ha 82 di vita Comincio a mettere truppe a cazzo Quelle più economiche che ho Per avere la fireball di nuovo E cercare di distruggere la signori Fireball E con 342 di vita ci salviamo E qui era partita la skill potente di risate malefiche Perché se l'è meritato Se l'è meritato Signori Assolutamente non bisogna sfottere i più deboli È una cosa sbagliata e non va fatta Perché se poi i più deboli girano le palle Questi sono i risultati Perfetto signori Allora se non sbaglio ho una carta a potenziare Sì grazie mille clan Vi voglio un sacco di bene Andiamo a metterci il moschettiero al 4 E siamo pronti per andarci a fare Una battaglia insieme Quanti minuti siamo? Tranquillamente Andiamo a farci una battaglia insieme signori Vediamo Non vi assicuro una vittoria assolutamente Vediamo un po' come Come gira Perfetto signori l'abbiamo trovato Cerchiamo di portarci a casa una vittoria Per prendere un baule Anzi anche se ha Ben due livelli in più di me Quindi non penso che ce la faremo Noi ci proviamo Ma non penso che ce la faremo Come minimo qui ci metterà l'orda di scheletri No perfetto Ah beh ci ha messo la regina Che gliene abbiamo però assolutamente devastata Incredibile perfetto Grande mini pecca Grande moschettiere Che riesce a portare qualche colpo alla torre Mi sa che l'infamozzo C'ha uno spawn deck Perché la regina Spawn a scheletri Questo ha già messo anche La casetta Qui ci picchia il drago Vediamo un po' com'è la situazione Direi di attaccare dall'aria E vediamo un po' Che cosa riusciamo a combinargli Perché non gli tiriamo una bella fireball qui Che almeno magari No Lorda di sgherri No Madonna che errore signori Oh beh Dai gliel'abbiamo Distrutta malamente Meno male Se arrivava sulla torre Sarebbe stato un casino Signori Un casino Qui bombarolo Che dovrebbe far fuori Quegli infamozzi Perfetto Siamo già pronti con il mini pecca Appena il bombarolo Si avvicina ancora un po' Mini pecca Mini pecca Bombarolo Vai così Anche così Se ci mette l'orda di schede Tra il meno ce ne sbattiamo Ma quanto pare non ce l'ha La valchiria No Ok vai mini pecca un colpo Non ce l'ha fatta dare mini pecca un colpo Ma due bombe Del bombarolo vanno più che bene Ancora con questa maledetta strega E io ci vado pesante Il drago per togliere subito dalle palle Quegli scheletrini del cavolo E dietro moschettiere Ok perfetto A questo punto Da quella parte lì Lasciamo andare Drago e moschettiere E di qua ci prepariamo con un'altra combo Ok la torre dovrebbe essere presa In teoria perché lui ha messo giù La casetta che spawna i goblin Infatti l'abbiamo presa Partiamo dall'altra parte Con una combo Ahia lui ci mette l'orda di sgherri Pesantissima Lanciamo una fireball Mamma perfetta Gliela abbiamo portata via tutta Ok E gli abbiamo lasciato l'altra torre con 900 Qui rimettiamo il bombarolo Per togliere dalle palle questi maledetti goblin Ok ci salviamo la torre I a pelo Ma ovviamente adesso Ce la prenderai Noi gliela lasciamo prendere Con quei cavolo di barbari Partiamo dall'altra parte Con una combo E magari aspettiamo Che ci arrivi la fireball Oddio Oddio il bomber Signori ci ha salvato la torre Signori ci ha salvato la torre il bomber E non devo nemmeno usare la fireball Metterei però Un moschettiere a colpire Quella stramaledetta strega Che dà fastidio E ci prepariamo magari con la fireball Qui sugli sgherretti Sì va Lanciamogli la fireball sugli sgherretti Che loro lo facevano sempre con me Quando ce l'avevo io nell'altro profilo Mi sembra giusto ricambiare il favore Ok a questo punto abbiamo anche Abbastanza Mano Per mettergli giù Se il draghetto magari Non va nella direzione sbagliata Dai lasciali stare drago Ostia Aia signori Aia ci fa male Aia ci fa male No scontro terminato Bella lì Pensavo di dover andare avanti E ci siamo portati a casa la vittoria Signori Perfetto Ci siamo andati a prendere Un baule d'argento Siamo già a 7 minuti di registrazione Quindi signori Io spero che il video vi sia piaciuto Grazie per seguirmi Per vedere i miei video Io Non finirò mai di ringraziarvi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace e un commento Qui da Bruttale è tutto Bella raga Grazie per la visione